L'Aquila perde 18 milioni di euro del bando periferia a causa dell'amministrazione Biondi. L'attacco arriva dal Partito Democratico che si riferisce al bando vinto sotto l'amministrazione Cialente. Delle 120 città che hanno vinto il bando e hanno detto i presenti, solo l'Aquila non ha firmato la convenzione. Non si sa, hanno detto, perché la convenzione non sia stata firmata, fu giustificata però da una necessità di rimodulazione, ha sottolineato Palumbo. Su questo il PD porterà in Consiglio Comunale un'interrogazione formale. Al tavolo i consiglieri comunali Stefano Albano e Stefano Palumbo, il senatore Michele Fina, che ha verificato lui stesso a livello nazionale la reale situazione. Le risorse guardavano alle periferie, quindi era molto importante averle. Dovevano avere maggiore attenzione, ha aggiunto Fina. C'è stata incuria e anche una cattiva informazione. Il punto è che in una fase in cui ci sono tante risorse, penso anche al fondo complementare, al PNRR, 1 miliardo e 700 milioni, alle quali l'Aquila giustamente deve poter accedere per completare, rilanciarsi dopo la ricostruzione, aggravata anche dalla crisi pandemica. Tutte queste risorse però non giustificano il fatto di averne perse alcune, perché poi ci saranno momenti in cui queste risorse non ci saranno. Io ho semplicemente dato seguito a un'iniziativa dei consiglieri comunali del PD dell'Aquila, che ringrazio, che giustamente hanno voluto approfondire. Mi sono fatto parte di Ligente, ho scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho cercato di capire utilizzando gli strumenti parlamentari e ho accertato appunto che cosa è accaduto, cose che probabilmente bisognava comunicare per tempo, in modo trasparente, già un anno fa. È evidente che perdere 18 milioni di euro da questo punto di vista è un grave problema per la città. Si trattava di un bando per la riqualificazione delle periferie, rispetto soprattutto a un progetto che aveva coinvolto dal settore ricostruzione pubblica alla Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila e alle associazioni Viviamo la Cue e Action Aid. È un progetto veramente importante. Noi vogliamo capire perché il Comune dell'Aquila perde questi finanziamenti. Quindi porteremo una formale interrogazione in Consiglio Comunale. Non vogliamo le solite chiacchiere stizzite del Sindaco, ogni qual volta gli si fa una qualche obiezione. Vogliamo recuperare il corretto iter di come sono andate le cose e capire se c'è stata a monte una scelta politica o tecnica sbagliata. Quello che rileviamo sicuramente è che si continua a fare un utilizzo a spot, direi bancomat, delle ingenti risorse che si hanno a disposizione in questo periodo, fra risorse del PNRR piuttosto che i fondi Restart. Un'immediata costruzione del consenso ma non una pianificazione sul lungo periodo. Alla fine si perdono tutte le occasioni di riqualificazione strategica da Porta Barete, al progetto di Viale della Croce Rossa fino al bando delle periferie, questi 18 milioni di euro che perdiamo.